Oggi parliamo di pesce. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Se vuoi leggere le trascrizioni puoi diventare un mio Patreon o se vuoi aiutarmi a comprare la mia prima Ferrari puoi farmi una donazione su Paypal. Oggi ti racconto una storia vera. Beh, sono tutte vere le storie che ti racconto, ma oggi è ancora più vera e drammatica del solito. Avevo 24 anni, avevo appena terminato l'università ed ero partito per Madrid, la mia prima esperienza di vita all'estero. Puoi immaginare quanto fossi contento. Ero un volontario in un centro per giovani, vivevo nel centro di Madrid, una città che ovviamente è ancora nel mio cuore e ero single. Fantastico! Poi la prima esperienza all'estero, secondo me, è speciale perché tutto è bello, tutto è fantastico, tutto è positivo solo perché sei in un altro paese. Ero arrivato in ottobre, il primo ottobre, e dopo qualche settimana avevo già molti nuovi amici e parlavo, capivo, già un po' di spagnolo. Poi lo spagnolo è molto simile all'italiano, per cui è stato abbastanza facile impararlo. Insomma, un periodo molto, ma molto, eccitante. Avevo tante cose da fare, tanti nuovi amici e una cultura e un paese da esplorare. Ogni settimana avevo una telefonata Skype con degli amici italiani e forse erano stanchi di sentire quanto amassi Madrid. Sicuramente erano pazienti. Un giorno un mio amico italiano mi chiese un favore. Un suo collega doveva venire a Madrid per il weekend e voleva chiedermi se potevo ospitarlo. Non il mio amico, eh, ma un suo collega voleva dormire sul mio sofà. Per me non c'era problema. Il fine settimana ero sempre in giro, per cui avere qualcuno a casa non era un problema. Inoltre, i miei coinquilini, le persone con cui vivevo, mi avevano detto di sì. Questo collega si chiamava Luca. Luca arrivò un venerdì sera e in teoria sarebbe dovuto andare via la domenica. Quindi, venerdì sera, sabato e domenica, tre giorni e due notti. In realtà, Luca è rimasto nel mio appartamento per dieci giorni, perché è arrivato venerdì, ma è partito la domenica dopo. Come puoi immaginare, sia io che i miei coinquilini non eravamo molto contenti. Quando il mio amico mi ha chiamato, gli ho detto l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza. Cosa vuol dire? Beh, diciamo che questa espressione è abbastanza chiara, penso. Dopo tre giorni il pesce non è più fresco e inizia a puzzare, ad avere un odore cattivo. Per questo bisogna mangiare il pesce fresco. Avere un ospite è simile. Può essere molto bello, perché puoi condividere la tua casa, puoi mangiare con un'altra persona, insomma, puoi diventare ancora più amico, più diventare più intimo con un'altra persona. Però, se l'ospite rimane troppo tempo, può diventare un problema, può diventare fastidioso. Chi riceve ospitalità, l'ospite, non deve approfittarne e deve cercare di riturre la sua permanenza. Sono sicuro che anche tu, adesso, stai pensando a una persona, a un ospite che è rimasto un po' troppo. È un'esperienza, penso, abbastanza comune. Questa espressione è molto comune, è molto utilizzata. Ricordati che quando dici che l'ospite è come il pesce, non stai facendo un complimento al tuo ospite. Non è una frase simpatica o positiva, quindi la puoi usare per lamentarti del tuo ospite. Puoi anche dirlo al tuo ospite, però ricorda che ha un significato negativo. Ah, vuoi conoscere la conclusione della storia? Il collega del mio amico, Luca, è rimasto nel mio appartamento per dieci giorni e prima di andare via ha lasciato i piatti sporchi, quelli che lui aveva usato per fare colazione. Quindi quando sono tornato a casa ho trovato anche questo suo bel regalo di ringraziamento. Giuro che è una storia vera. Giuro, giuro. Mi raccomando, non fare come Luca. Luca, ma Luca, ma Luca. Va bene, va bene, dai. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, lava i piatti e seguimi su Instagram. Ciao. Ciao. Ciao.